Educare la gentilezza per costruire una cittadinanza rispettosa, questo è l'obiettivo del Comune di Villa del Conte, tra i primi in Veneto ad avere un consigliere delegato proprio al tema della gentilezza e che ogni anno dal 2020 vede il sindaco Antonella Argenti parlare agli studenti delle scuole comunali, dall'infanzia alla secondaria, per insegnare ad essere gentili ed apprezzare la gentilezza negli altri. Il Consiglio Comunale di Villa del Conte ha così consegnato un riconoscimento a 5 alunni della scuola secondaria Valeri che si sono distinti per la loro gentilezza. Si tratta di un buono da spendere in materiale scolastico. Ciò che rappresenta questo riconoscimento è molto di più l'intenzione e la determinazione degli studenti e delle studentesse della Valeri di essere generosi e gentili, nonostante tutto, ha spiegato il sindaco Argenti, che ha anche consegnato alle scuole primarie e due asili un attestato di merito per sviluppare piani formativi per favorire comportamenti gentili.